Ciao Gossip News da Laura Chiatti Innanzitutto, un dettaglio, il premio, come ti sei sentita quando l'hai ricevuta? Beh, mi sono sentita chiaramente molto soddisfatta, mi ha emozionato tantissimo anche perché mi sento bene con me stessa, visto che ho contribuito in un certo senso a dare un qualcosa di positivo alla società, anche se ribadisco che questi sono premi meritatissimi ma molto più meritati per le persone come Vigili del Fuoco, che hanno investito tanto della propria vita rischiando anche la propria vita, quando per noi in realtà è un lavoro faticosissimo ma è anche un grande divertimento, quindi va soprattutto a loro. Il premio si chiama premio simpatia, tu come ti reputi? Una persona simpatica, sola? Io credo che questo sia l'unico premio che mi vada riconosciuto, perché io sono veramente una donna simpatica cioè me lo riconosco perché è vero, cioè nella realtà sono proprio simpatica ho fatto sempre molto ridere gli uomini, poi sì la bellezza è soggettiva però faccio ridere volendo e anche non volendo. Grazie. 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 Grazie.